Clown Shit! C'è però una cosa, mentre venivo dietro è fatto tipo così, tan, si è fatto un po' così, e meglio, sembra che è successo qualcosa Ok Ok Eh ciò i luci li mettiamo qua, giusto il sabice Ciminta quando sei pronto Vai E li metti in posizio, la cassa è vera Ah no, sta andando, la cassa sto dicendo Rappicami E lo guarda che c'è dentro i colpi, eh Palami sul tattico se no lo tolgo, non si vede no si vede allora mettiti però lì nell'angolino aspetta 6 3 2 1 via no 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 dove t'ho preso? mano figa puttana adesso abbassalo vale ci vuoi abbassalo? c'è l'inguale nella testa ma sono fizzata e ti tiene la stessa posizione di prima più o meno avevi la testa sul robo e ma l'ho gi... ok appoggiata e le gambe così no aspetta così ecco ok abbassi intanto tu scolcarti le gambe aspetta ok 3 2 1 via faccio il borsa maritano c'è il marine arrivi no cazzo scolcato vado a vedere no aspetta non per metterti il cappellino rosso che sei da medico il passamontagna via perchè se no c'è quello di prima tipo che arrivi via via tipo oh no cazzo tipo fai oh no cazzo philips è caduto con un po' di enfasi per far vedere che è vero cazzo philips è caduto con un po' di enfasi via 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 subito partiamolo via via ok magari entrava anche con la pistola è vero con la pistola più che col fucile che poi ci sgama ma che non si vede vabbè dai via in testa non metto un cazzo no no dammi gli occhiali eh ma scelgo su io poi si vede che li ho cambiati e tolto ah è vero è vero dai skypea quindi entra con la pistola si entra pure faffanculo eh e poi ho caduto il caricatore la carica si ah no la carica a caso vai cos'è che devo dire quindi ah no philips cerca di stare qua così non oltruisci la telecamera oh no cazzo philips è caduto oh no cazzo philips è caduto ah fate entrare i meriti e i meriti oh non arrivo a lei no non puoi entrare no avevo i stivali amato oh ah vogliamo farlo al video del philips eh si dai facciamo oh 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 che storia simpatica ti metti sul cappuccio no 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 chiusi ok la lascia andare via che non ha nulla ma ripartiamo dal campo base eh eh chi sto questo è tutto bex esatto è andata eh vai andata che non faccio più quelle di merda pronto? si vai oh no cazzo che cazzo ridi sto ridendo eh no mi fai ridere ok dai perché hai l'elmetto qua super anfibi tanto tutto questo lo taglieremo si un pezzettino lo lasciamo poi basta all'inizio lo lasciamo tipo adesso inquadrami dai piedi verso la faccia stile epico e poi faccia sono pronto pistola vai io lo fermo magari sono pronto ma devo anche uscire forse no lascio ti inquadrò ti inquadrò qua ti inquadrò ti inquadrò qua la fanco ti inquadrò ti inquadrò proprio piante